Tutte le volte tu combatti contro te stesso, io ho affrontato avversari dove con un colpo solo mi potevano mandare a dormire un quarto d'ora, ho vinto anche, però spesso ho perso contro me stesso. Dal ring alla cattedra, questa volta per combattere il bullismo, Orlando Fior di Giglio, uno dei puggi più talentosi del panorama internazionale, è stato infatti protagonista dell'iniziativa dell'associazione giovanile Futuro Aretino. Abbiamo proposto questa iniziativa di Futuro Aretino che si chiama Sali sul Ring, dove Orlando Fior di Giglio ha portato la sua esperienza per testimoniare quello che può passare la box, quello che può trasmettere per affrontare episodi di bullismo nella vita. Ragazzi sono un po' il motore, ragazzi sono il motore della società, sono un motore un po' di tutto, dipende tutto da loro. Poi specialmente se hanno davanti un personaggio che nello sport ha dato tanto, penso che parla di bullismo, è ancora migliore. Sì, forse posso dare una mano a controllare, posso dare una mano un po' a controllare le emozioni, quello sì, lo penso che gli abbia fatto anche bene. Fior di Giglio è pronto per tornare a breve sul ring per tentare un nuovo assalto al titolo italiano. Stiamo preparando per questo importante appuntamento ma sto bene, sto benissimo.